Tante sigle e tanti coordinamenti sono rappresentati nel raggruppamento spontaneo ed eterogeneo di elementi, una trentina circa, che da una settimana sono attendati davanti all'ingresso del porto di Oristano con una sola e precisa missione, far sentire la propria voce in merito al tentativo in corso di tappezzare le terre e i mari di Sardegna da torri che vanno dai 200 ai 300 e oltre metri senza tener conto di quanto hanno da dire coloro che l'isola, la terra e i suoi mari la vivono e cercano di rispettarle il più possibile. Passiamo tanti gruppi dalla Sardegna che stanno lottando per questa speculazione eolica, passiamo già ormai 5 giorni e andremo ad oltranza sicuramente. Sono il primo che è venuto qua a bloccare l'uscita delle pale. Cosa è successo? Qui praticamente ormai questa è una linea rossa che se è sorpassata allora ci costringerebbe a fare anche altre azioni, azioni molto più vigorose e incisive. Allora faccio un appello anche a loro, fermatevi, fermatevi, fermatevi perché il popolo sardo non permetterà questo scempio. Io sono qui per portare solidarietà al presidio che si trova in un luogo simbolico, simbolico perché è il punto di arrivo dei mezzi per installare degli impianti eolici che in realtà dovrebbero essere bloccati per via della legge moratoria. Quindi non è chiaro se poi arrivati a destinazione il destino di queste pale è quello di essere installate oppure di essere parcheggiate. Il fatto sta che io penso che le istituzioni in questo momento debbano per trasparenza dire ai propri cittadini perché queste pale escono, dove sono destinate e qual è il loro destino. La nostra terra è sotto attacco. Siamo uniti per difenderla da una devastazione imposta in nome di una finta transizione energetica che non riconosciamo né come etica né come sostenibile. Questa invasione mira lo sfruttamento scelerato delle nostre terre e risorse, un abuso su tutti i fronti, un attentato alla sovranità, all'autodeterminazione e alla sopravvivenza del popolo sardo.